Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Gesù è venuto nel mondo per far sperimentare alla gente la vicinanza di Dio ad ogni persona. Tanto che li ama come un papà. Ma la gente oggi può incontrare Gesù solo attraverso di noi. Ogni volta che nella giornata entro in contatto con una persona devo pensare è Gesù che mi ha mandato a questa persona per amarla. Alleluia! 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 Grazie a tutti.